Bene amici del caffè, adesso proviamo una miscela aromatizzata per la Vazza Point della Vai Mocha questo che proviamo adesso è il cioccolato solubile cioccolato solubile è una confezione che è molto simile a quella che si può bere nelle macchine distributrici da aziendali quindi è la classica cioccolata in confezione è una classica cioccolata solubile si inserisce la capsula all'interno della macchina la Vazza Point la inseriamo prepariamo la nostra cioccolata, adesso qua abbiamo la tazzina piccola ma voi potete tranquillamente utilizzare anche una bicchiere più grande come vedete la cioccolata è assolutamente identica a quella delle macchine distributrici da aziendali il profumo è quello che ci si aspetta cioccolato per una pausa diversa dal solito caffè una pausa un po' più rilassante una cioccolata a Vai Mocha questo è buono, già dolce, già pronta per essere bevuta ottima per tutti i momenti della giornata a Vai Mocha 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 a Vai Mocha